Cos'è questo profumo di fragola? È il mio rossetto! Ah, e anche il sapore sa di fragola? Sì, prova! Hai ragione, sa di fragola! Pov, sei una persona che si distrae facilmente! Ah ah ah, questo video è troppo divertente! Guarda, pera! Ops, dovevo chiamare l'ambulanza! Onnipotente, ti prego, fa che i miei genitori non abbiano più problemi! Ho saputo che sei scappato e che quelli dello zoo hanno alzato la tua recinzione fino a 2 metri! Eh già! Ho saputo che sei scappato di nuovo e che quelli dello zoo hanno alzato la recinzione fino a 4 metri! Eh già! Ho saputo che sei scappato nuovamente e che quelli dello zoo hanno alzato la recinzione fino a 8 metri! Ma scusa, fino a che altezza devono alzare il recinto per impedirti di scappare? Ah, non basteranno nemmeno 100 metri se continuano a lasciare aperta la porta! Avete fatto la ricerca su Beethoven? Certo prof, ho anche scoperto quale frutto mangiava mentre scriveva la Quinta Sinfonia! Ah sì? E quale frutto era? Banana naaa! Ti va di metterti con me? No, perché tu cammini storto! Ciao, adesso cammino dritto, ti va di metterti con me? Va bene! Come mai hai rinunciato a camminare storto? Non mi ami più? Certo che ti amo, ma mica posso ubriacarmi tutti i giorni! Come mai quando sei triste ti metti a giocare alla Play? Così mi console! Sei magnifico! E tu sei peravigliosa! Mi dispiace ragazzi, oggi non potete entrare nell'edificio scolastico perché si è rotto il muro maestro! Ma non potevano chiamare un muro supplente? Come mai i neutroni, protoni ed elettroni organizzano sempre delle feste? Perché sono particelle! Ho sognato che mi regalavi un anello! Mi chiedo che cosa significhi! Lo scoprirai presto, amore! Ti ho fatto un regalo! Wow! Mi hai comprato l'anello? No! È un libro sul significato dei sogni! Dove giocano a pallone i topi? Nel campo d'acacio! Lo sapevi che i piragna possono divorare un bambino in meno di un minuto? Wow! Interessante! A parte questo, come vanno le cose? Non troppo bene! Oggi ho perso il lavoro all'acquario! Come si chiama un cane olandese del 1800 che dipinge? Van Dogg! Pov, hai una mamma severa ed esigente! Mamma, è arrivato il risultato del test del sangue! Sono B-! B-! E perché non ha più... Finalmente, una volta per tutte, faremo chiarezza su quale tra questi due rettili è un coccodrillo e quale un alligatore. Allora, il coccodrillo è quello accanto all'alligatore e l'alligatore è quello accanto al coccodrillo. Non ringraziatemi! Figlio mio, ricordati una cosa molto importante! Non devi mai paragonarti agli altri! Grazie papà! Perché sono tutti meglio di te! Gallo, cosa stai facendo con quella pala? Costruisco una galloria! Puoi sistemare la lampadina? Ti ho detto di sì! È inutile che me lo ricordi ogni mese! Sono andato in Cina! Hai avuto problemi a farti capire? No, perché parlo mandarino! Ma se in Italia lo chiamano treno merci, in Francia lo chiamano treno grazie! Cosa ci fa una mosca sopra della farina? Ah, che bello! Mi ci voleva proprio una settimana bianca! Qual è il ricordo più bello di quando eri piccolo? Quando non dovevo pagare le bollette! Ai ai, mi fa male la schiena! Come mai? Soffro di scogliosi! Dacci i soldi o spariamo! Ok, allora sparite! Come mai pensi sempre tanto? Perché sono pensierosa! Ma è vero che l'origano nasce liscio? Ti prego, non lo dire! E poi l'origano! Come mai questa zona della città è piena di peri? Perché siamo in periferia! Cosa fa questo maialino? Si guarda allo speck! Ricordati, ci vogliono due persone per rovinare una relazione! Ha ragione, dottore! È colpa di mio marito e di sua madre, che l'ha cresciuto così! È venuto a mancare il salumiere! Dobbiamo mandare un messaggio alla famiglia! Cosa scriviamo? Con affetto! Cosa dice una gallina che vende cocco in spiaggia? Cocco, 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 cocco! Cocco bello! Come mai noi primitivi siamo finiti tutti all'inferno? Perché non credevate a una religione nata migliaia di anni dopo la vostra morte? Cosa desidera ordinare? Vorrei una battuta di verdure! Lo sa perché la carota non riesce a dormire? Perché l'insalata russa! Come mai ti hanno arrestato? Mi hanno invitato a un gender reveal party! E cos'è successo? Ero l'unico nudo alla festa! Evviva! Sono le 17! Mi manca solo un'ora e ho finito di lavorare! Sbagliato! Ti manca un'ora e 39 anni per finire davvero! Hai tre desideri! Voglio avere sempre ragione! Ok, fatto! Ora ti rimangono due desideri! No, me ne rimangono dieci! Dopo la morte di mio marito non ho frequentato altre persone per 15 anni! Wow, che brava! E dopo questi 15 anni cos'è successo? È successo che sono uscita di prigione! Quante fidanzate hai avuto prima di me? Una trentina! Cosa? Così tante? Ti lascio! Ma no, amore! Intendo solo una! Di trento! Mi porti a cena fuori stasera? Mi dispiace! Non esco con donne sposate! Ma sono tua moglie! Non faccio eccezioni! Ricorda! Non puoi avere una brutta giornata al lavoro! Se non ci vai! Sono andato in Rai a TG1 mattina! Ma siccome era molto presto, non sono riuscito a fare colazione! Quindi sei andato a TG1! Dottore, come posso capire quali sono gli errori che faccio quotidianamente? È semplice! Trova qualcosa di sbagliato che fa tua moglie e chiedile di correggerlo! A quel punto lei ti dirà tutte le cose che sbagli tu, la tua famiglia e tutti i tuoi amici! Vorrei un bicchiere di Coca-Cola con dentro il rum! Va bene lo stesso se utilizzo la Pepsi? Sì, va bene! Ecco il suo bicchiere di Coca-Cola con dentro la Pepsi! Ti faccio un indovinello! Vai, spara! Qual è quel posto dove i clienti faticano più dei dipendenti? Non esiste un posto così! E invece sì, è la palestra! Mia moglie mi ha lasciato perché sono insicuro! No, mi sono sbagliato! Era solo andata a buttare la spazzatura! Come rimanere per sempre ventenni! Quanti anni hai? 20 anni e 8000 giorni! Pov, sei una persona che pensa troppo! Forse dovrei farmi una doccia per attivarmi un po'. Però, se vado a farmi la doccia, prima dovrei fare un po' di esercizi, così non devo farla due volte. Ma se devo fare gli esercizi, è meglio che mangi qualcosa prima. E se devo cucinare, devo prima pulire i piatti. E se devo pulire i piatti, devo anche pulire la cucina. E se devo pulire la cucina, devo pure pulire tutta la casa. Vabbè, troppo sbatti. Mi rimetto a dormire. Ho una brutta e una bruttissima notizia. Mi dica prima quella brutta. Hai 24 ore di vita. Oh no! E quella bruttissima? Mi sono dimenticato di dirtelo ieri. Ho problemi economici. Faccio i salti mortali per arrivare a fine mese. Mi dispiace. Che lavoro fai? Il trapezista. Un sarto sta parlando e a un certo punto si interrompe perché gli cade il filo di mano. Scusa, non mi ricordo di cosa ti stavo parlando. Ho perso il filo. Ieri ho sventato una rapina al mio negozio di orologi. Ho messo KO il ladro. Bravo! Come l'hai steso? Colpendolo. Come mai il numero 10 è il giocatore di solito più forte di una squadra di calcio? Semplice perché è il giocatore più decisivo. Tra pompieri. Ho sentito che ti sei rimesso con la tua ex. Eh sì, c'è stato un ritorno di fiamma. Devi amare te stessa. Mi dispiace. Non sono il mio tipo. Preferisci 100 euro o un viaggio a sorpresa? Scelgo il viaggio a sorpresa. Sorpresa? Ti ho portato dal dentista. Quando ci provi con quella brava in chimica. Ti va di uscire con me? Idruro di sodio. Ossido di bromo. Cosa? Nah, bro. Complimenti. È un bambino o una bambina? È una pizza. Una donna esce con un chirurgo. Sai cosa vale più di un diamante? Cosa? Tu. Che dolce che sei. Non pensavo che i chirurghi fossero così romantici. Le corne valgono 50.000 dollari, il cuore un milione, il fegato 800.000, i reni 500.000, il midollo osseo 800.000, i polmoni 850.000 e il pancreas 350.000 dollari. Lei è in arresto per aver scaricato illegalmente Wikipedia. Aspetti, posso spiegare tutto. Capo, vorrei un aumento. Ho tre compagnie che mi cercano. Ah, non pensavo fossi così richiesto. Quali compagnie sono? Quella della luce, del gas e dell'acqua. Salve, come va? Bene. Allora esca subito. Pov, incontro l'amministratore delegato dell'IKEA il giorno del suo compleanno. Perché mi hai portato delle uova, della farina, dello zucchero e altri ingredienti? Sapevo che era il suo compleanno, quindi ho voluto regalargli una torta. Cosa fai quando qualcuno ce l'ha con te senza alcun motivo? Gliene fornisco uno. Prof, è vero che per gli antichi romani era più facile risolvere le equazioni? Eh, perché? Perché per loro la X era sempre 10. Cos'è l'H2SO4? Lo so, ma non mi viene. Ce l'ho sulla punta della lingua. Ma sei impazzito? Sputalo subito. È acido solforico. Chissà cosa faceva Noè sull'arca. Boh, forse pescava? Con solo due vermi? Sono appena tornato da un viaggio di piacere. Dove sei stato? Ho accompagnato mia suocera all'aeroporto. Che lavoro fai? Il metro notte. Ah, misuri il buio? Dottore, vedo delle macchie. Ok, le prescriverò degli occhiali. Vede ancora delle macchie? Sì, ma molto più nitide. Che avete fatto oggi a scuola? Abbiamo imparato nuove parole. Avete letto dei nuovi libri? No, abbiamo messo le puntine sulla sedia della maestra. La mamma divorziata e risposata chiede al figlio. Allora, com'è andata con il tuo nuovo papà mentre ero via? Bene, mamma. Ogni mattina mi portava in barca al centro del lago e poi mi lasciava tornare a nuoto. Ma non era una distanza troppo lunga per te? No, mamma. Andava bene. La parte difficile era solo all'inizio, quando dovevo uscire dal sacco. Ciao amici e amici! Se vi è piaciuto il video, mettete un like e seguitemi, perché a 10.000 mi piace farà uscire una nuova compilation di battute inedite. Inoltre, non dimenticate di prendere il mio nuovo libro ridere. È divertentissimo! Grazie a tutti! Grazie a tutti